ciao a tutti sono michele tuveri di high west distillery e oggi sono qui per portarvi nello iuta lo iuta è l'anima del wild west e fino dal 1832 ci fu una grandissima produzione di american whisky nello iuta c'erano 37 distillerie di grande fama ma nel 1870 chiusero tutte nel mila del 2006 dei perkins e jane perkins dopo un tour delle distillerie del tennessee e del kentucky si innamorarono del di tutta la produzione di tutto quello che c'è dietro la produzione del whisky e decisero di aprire la loro distilleria e decisero di farlo in quella parte del wild west che ormai era rimasta senza una produzione di whisky e quindi andarono nelle montagne dello iuta sopra sopra salt lake city nella cittadina sciistica di park city park city è molto famosa negli stati uniti per le piste da sci e per tutto quello che ha a che fare con il wild west e decisero di aprire la distilleria più in alto degli stati uniti quindi siamo a 2600 metri sopra il livello del mare d'inverno nevica tantissimo quindi è molto difficile arrivare alla distilleria però da questo punto se vogliamo di svantaggio riuscirono a creare un whisky di grandissimo successo il primo whisky che fu prodotto fu il double rye che è un blend di rye whisky e divennero famosi per appunto la loro capacità di fare i blend perché la prima distilleria era piccolissima troppo piccola per una produzione esclusiva e quindi diventarono molto bravi a reperire e a miscelare diversi tipi di whisky e farli diventare delle creazioni uniche al giorno d'oggi i west grazie all'investimento di constellation brand dispone di di un numero molto maggiore di di still e anche di una di una linea di imbottigliamento ed è per questo che per la prima volta in 15 anni siamo in grado di offrirlo anche in europa grazie a questa linea di di alambicchi nuovi una quantità sempre maggiore del nostro whisky si trovano in queste bottiglie vi presentiamo double rye il nostro blend di straight rice vi presentiamo american prairie che è il nostro bourbon quasi cento per cento mais vi presentiamo il rendezvous il fratello maggiore del double rye e il campfire che a parer mio è il più interessante di tutto il range grazie a tutti grazie a tutti